Comunque tu sei Accurzio Caetano Fuangelo? Si Chiudiamo la sala cinesca Ma che vuoi fare scusa? Facciamo l'inventario Brigadiere scrivi quello che ti dico Inventario? E poi andiamo all'albergo Scrivi io detto Orologio con carillon Poi vediamo qui che c'è Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette bracciali d'oro di varia foggia Inconcepibile Si Un commerciante onesto Si d'Accurzio Queste sono maniere Accurzio le spezzo una costra Guarda la roba